Nel terzo trimestre 2019 il mercato del lavoro Veneto ha mostrato un saldo negativo per 10.700 posizioni lavorative dipendenti, 1.300 delle quali riguardano la provincia di Belluno. Lo rende noto la bussola di dicembre elaborata dall'osservatorio sul mercato del lavoro dell'Agenzia Veneto Lavoro. Un risultato atteso dettaglia ancora l'indagine considerata la fine della stagione turistica che riveste un peso rilevante sull'occupazione regionale ma peggiore rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2018, meno 7.000 posizioni e che conferma dunque il rallentamento della fase espansiva in atto ormai da diversi trimestri. La stagionalità tipica del periodo incide sia sull'andamento settoriale che su quello territoriale. Il comparto con il saldo maggiormente negativo risulta infatti quello turistico che perde nel trimestre in Veneto 22.000 posizioni lavorative, in crescita invece il settore dell'istruzione e dell'agricoltura. Guardando in particolare la provincia di Belluno, nel periodo considerato si evince come vi sia stata un'espansione dei contratti a tempo indeterminato, passati dai 930 del 2018 ai 1925 del 2019. Ciò è dovuto anche alle trasformazioni contrattuali che in provincia sono passate da 595 dello scorso anno alle 665 attuali. Belluno con una meno 1.300 e Venezia, provincia a maggiore vocazione turistica, risultano essere nel Veneto quelle in cui si sono registrati i saldi più negativi.